Tipo a casa, abitavo in una casa di 40 metri quadrati, compresa del bagno, e fuori, al primo piano, e fuori c'era un lampione che sembrava entrare proprio dentro casa. Se fossi tu, amore mio, ad osservarti bene come ti muovi e con le mani ti accarecci i capelli. Se fossi tu, amore mio, ad osservarti ben... Ad indossare per un'ora i miei occhi, esti nuda per 60 minuti. Allora, questa storia dell'Inludo per 60 minuti ha due versioni. Ok, addosare per un'ora i miei occhi, ti guarderesti per 60 minuti... ...o ti...